ciao bellezze allora oggi il makeup tutorial e niente con sui toni neutri più che altro con sfumature su rosa ve lo faccio vedere da vicino così vedete meglio eccolo qui facilissimo da riprodurre perché comunque ho utilizzato ve lo faccio vedere tanto poi vedrete poi nel tutorial a seguire questa palettina qui della makeup revolution che io adoro che è la iconic 3 questa qui e poi ho utilizzato come ombretti questo qui di basic beauty che farà anche una finaccia nel senso che mi cade la scialdina perché è staccata lo vedete nel video perché le comiche e poi anche questo qui della ever che è un bianco super shimmer scusate ma è la luce super shimmer e glitterato niente ragazzi ha un look molto naturale come vedete insomma ve l'ho detto facilissimo e a me piace perché più che altro è luminoso a me piacciono i look cioè mi piacciono gli smoky nel senso che quindi sui toni opachi eccetera però non so come mai però soprattutto sulla palpebra quando ci sono comunque glitter ombretti shimmer secondo me hanno una marcia in più alla fine cioè io li adoro li adoro li adoro li adoro tanto insomma look naturale bimba quindi facilissimo che vi devo dire per il resto niente potete vedere una luce un po' diversa dietro il telefono perché ho messo la luce bianca a un vecchio portalampada diciamo che avevo da tavolo ho messo la luce bianca luce naturale l'ho cercata appositamente in modo tale che visto che si va nell'inverno dovevo attrezzarmi un attimino perché come sapete non è che ci sia una bellissima luce qui in camera mia venendo da di là come vedete e di conseguenza insomma mi sono attrezzata perché ce l'avevo a luce gialla però ovviamente falsava i colori invece questa qui è perfetta si vedono benissimo cioè i colori che io vedo nel cellulare perché riprendo con la fotocamera interna sono fedelissimi agli originali quindi vuol dire che è una lampada che funziona alla grande per il resto bimbe cosa vi devo dire? sì mi sono fatta un ciuffo assurdo come vedete anche dal video che mi sto sempre a sistemare ma d'altronde i capelli lo sapete vanno dove vogliono e non stanno mai fermi e quindi mi sto sempre a sistemare ma d'altronde è così è un luco un po' da pin-up ci faccio caso ora visto con questo bombolino sopra ma sì dai bellino e che volevo dirvi bimbe? niente non ho cose particolari da dirvi nel senso che vabbè farò degli acquistini in questi giorni perché devo passare dal Carrefour a prendermi uno shampoo, delle salviettine struccanti insomma qualche cosina che mi serve che sono rimasta un attimo indietro quindi appena poi le avrò presi magari faccio uno e vi faccio vedere questo quello che ho preso e via cerco anche un prodotto per lo styling per i capelli che vi farò vedere se riesco a trovare al Carrefour spero che è un prodottino che io ho scoperto tramite il blog no la pagina facebook amo i miei capelli ricci che ha un blog carinissimo cioè una pagina facebook scusate carinissima e ora si incomincia carinissima perché danno a queste ragazze tantissimi consigli per chi ha come noi diciamo i capelli ricci quindi tanti diciamo tante curiosità tanti piccoli accorgimenti anche per l'asciugatura tanti consigli sui prodotti da utilizzare per comunque definire il riccio e siccome parlano spesso di un prodotto voglio vedere insomma se lo trovo al Carrefour poi ve ne parlo magari nel LOL ve lo faccio vedere lo proverò e poi vi farò vedere come ci sono trovata comunque tutte dicono che ci si trovano parecchio bene e nulla bimbe fatemi sapere se vi piace magari mettete un pollicino in su o lasciatemi un commentino lo sapete e fatemi sapere insomma se siete riusciti anche a rifrodurlo nel senso se vi è piaciuto e niente molto semplice e insomma veramente velocissimo da realizzare quindi pochi prodotti però insomma secondo me è d'effetto anche volendo io vi mando un mega bacio e non so se ci rivedremo nel fine settimana penso di no a questo punto all'inizio della settimana prossima per cui vi auguro scusate mi impappino troppo vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ovviamente dimenticavo seguite il tutorial ciao eccoci qua ragazze questo è il look come vedete è molto semplice carino ed effetto iniziamo come al solito con la base di Too Faced la Shadow Insurance e lo andiamo ad applicare su tutto l'occhio palpebra mobile palpebra fissa come al solito eccoci qua sfumiamo per bene ragazzi mi raccomando perché altrimenti rimane nelle pieghette dalla palette della Makeup Revolution l'Iconic 3 come sapete che è il dupe della Naked 3 vado a prendere con un pennello da sfumatura comunque un po' più ampio il primo colore che ha un rosa matt un rosa chiarissimo veramente chiarissimo matt e lo vado ad applicare su tutto l'occhio e anche sotto l'arcata sopraccigliare anzi ha maggior ragione sotto l'arcata sopraccigliare per creare il nostro punto luce però comunque per uniformare tutte le varie discromie della palpebra lo applico in generale su tutto l'occhio ecco qui distribuendo per bene il prodotto a modo in modo tale che anche la base che ho applicato si asciughi e quindi non faccia andare l'ombretto nelle pieghe poi procedo con un pennellino da sfumatura a prendere il quarto colore che trovate che è praticamente un un rosa antico sempre opaco e prendo appunto questo pennello da sfumatura molto ampio perché lo vado ad applicare nella piega dell'occhio però ovviamente sfumando talmente tanto che mi serviva un pennello da sfumatura piuttosto ampio appunto perché non volevo fare proprio una riga precisa ma sfumare per bene il colore sopra la palpebra mobile quindi lo vado sempre a portare verso l'esterno oramai lo sapete siete bravissime e avete capito in modo tale da allungare il nostro occhio con un pennellino da sfumatura invece un pochino più piccolo vado a prendere il terzo colore che è un è praticamente un rosa antico però comunque shimmer anzi satinato e lo vado invece ad applicare più precisamente nella piega mi piace perché comunque sulla palpebra mobile andremo ad applicare dei colori shimmer molto luminosi quindi proprio per creare e più chiari ovviamente creare quindi una degradazione una gradazione di colore con un pennellino piatto vado a prendere il secondo colore che è un rosa invece molto 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 shimmer e non da bagnato perché poi lo vedrete dopo lo vado a picchiettare sulla palpebra mobile lo vado ad applicare per bene sulla palpebra mobile andrò a intensificare poi dopo con un altro colore come vedrete ecco perché non lo utilizzo da bagnato lo vado ad applicare per bene ecco qui su tutta la palpebra mobile fatto questo passaggio vado a prendere un ombretto con un pennellino sempre piatto e bagnato di Basic Beauty occhio chiara occhio te l'avevo detto stai attenta è caduto e lo so si è staccato che è praticamente è il numero OC04 e è praticamente un rosa un rosa e un tortora mischiati insieme molto molto shimmer ragazzi veramente luminosissimi potrebbe essere utilizzato da illuminante e con un pennellino bagnato appunto lo vado a picchiettare sulla palpebra mobile in modo tale da intensificare il colore che avevo messo in precedenza quindi tiro fuori ancora di più lo shimmer dei due ombretti che io sono andata ad applicare scusate ragazzi se ogni tanto sentite motorini macchine eccetera ma ovviamente accanto alla finestra lo potete capire che ci sono sempre veicoli che passano allora fatto questo quindi picchiettato per bene vado a prendere questo ombretto super shimmer bianco della Ever che se non mi sbaglio l'ho presi quando c'era ancora la Upim a Pisa poi la Upim l'hanno tolta e è un bianco super shimmer come potete vedere a parte il mio dito sporco di marrone accanto e lo vado con un pennellino a punta ad applicarlo nell'angolo interno per creare un punto luce e lo vado leggermente a sfumare ecco qui un punto luce eccolo qua perfettamente applicato adesso vado fatto questo ad applicare eyeliner come al solito e mascara e ci vediamo dopo eccoci qua facciamo adesso il contouring questa volta come avete visto sono partita già dalla base perché comunque non utilizzando colori molto scuri ho potuto tranquillamente fare prima la base quindi applicare per bene tutto tutti i prodotti cipria eccetera perché comunque sapevo che non avrei avuto un fallout eccessivo da macchiarmi sotto l'occhio procedo quindi con un po' di contouring in modo tale da scolpire per bene i miei zigomi ragazze ovviamente una cosa che non voglio dimenticarmi potete applicare ovviamente le ciglia finte anzi se le applicate è ancora meglio io adesso non ne avevo a disposizione di adatte perché comunque non avevo serate eccetera ce le ho piuttosto importanti quindi non era il caso di applicarle di pomeriggio ovviamente però se avete ciglia finte applicatele a quel punto anche senza eyeliner procedete con l'applicazione proprio delle ciglia finte vedrete che lo sguardo è bellissimo prendete questo blush io ho utilizzato questo rosa non ve lo faccio vedere perché purtroppo non è molto integro quindi non potevo sollevare ma è un rosa veramente shocking e è di elf e è il pink passion di elf e matt quindi non shimmer quindi è un blush opaco super 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 rosa bellissimo esagerato ragazzi è veramente veramente bello scriventissimo all'ennesima potenza e lo vado ad applicare appunto come state vedendo sugli zigomi in modo da darci un pochino di colorito perché questo effetto cadaverino non era proprio il caso quindi ecco qua un po' più naturale decisamente sì questi capelli va bene poi ecco qua il mio solito so glow illuminante da applicare sopra 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 lo zigomo è un illuminante dai dal sotto tono rosa quindi appunto sta benissimo sia con il trucco occhi sia con il blush appunto io oramai penso che l'abbiate capito cioè nonostante faccia trucchi anche di altri colori però io i toni del rosa e vabbè li adoro ragazzi cioè scusatemi se a chi non per chi non non ama tantissimo il rosa ma io comunque questi toni qua il rosa antico i colori caldi rosati mi piacciono da morire poi essendo mora secondo me hanno i castane donano in particolar modo ecco qui questo ragazzi è il look spero vi piaccia adesso occupiamoci delle labbra ho utilizzato no giralo chiara ecco così è un gloss lo 07 di Kiko che è una matita glossata comunque sia cioè il colore si nota ecco anche se ha leggermente il finish lucido però comunque il colore si vede eccolo qua quindi labia rigorosamente nude essendo pomeriggio almeno per quanto mi riguarda però ragazzi potete utilizzare o usare anche con un fucsia magari un ciclamino soprattutto se lo utilizzate questo look per la sera ecco ragazzi questo è il look finito lasciatemi un commentino se vi va o mi piace iscrivetevi mi raccomando ragazze un bacio ciao ciao